Cari concittadine e cari concittadini, un saluto cordiale e un grande augurio a tutti coloro che sono in Italia e agli italiani che si trovano all'estero. Tra poco inizierà il 2018. Settanta anni fa, nello stesso momento, entrava in vigore la Costituzione della Repubblica, con il suo patrimonio di valori, di principi, di regole che costituiscono la nostra casa comune, secondo la definizione di uno dei padri costituenti. Su questi valori, principi e regole si fonda e si isolge la nostra vita democratica. Al suo vertice si colloca la sovranità popolare, che si esprime anzitutto nelle libere elezioni. Come sapete, ho firmato il decreto che conclude questa legislatura del Parlamento e il 4 marzo prossimo voteremo per eleggere le nuove Camere. È stato importante rispettare il ritmo fisiologico di cinque anni previsto dalla Costituzione. Insieme ad altri esiti positivi andremo a votare con una nuova legge elettorale, approvata dal Parlamento, omogenea per le due Camere. Le elezioni aprono, come sempre, una pagina bianca. A scriverla saranno gli elettori e, successivamente, i partiti e il Parlamento. A loro sono affidate le nostre speranze e le nostre attese. Mi auguro un'ampia partecipazione al voto e che nessuno rinunzi al diritto di concorrere a decidere le sorti del nostro Paese. Ho fiducia nella partecipazione dei giovani nati nel 1999, che voteranno per la prima volta. Questo mi induce a condividere con voi una riflessione. Nell'anno che si apre ricorderemo il centenario della vittoria nella Grande Guerra e la fine delle immani sofferenze provocate da quel conflitto. In questi mesi di un secolo fa, i diciottenni di allora, i ragazzi del 99, vennero mandati in guerra nelle trincee. Molti vi morirono. Oggi i nostri diciottenni vanno al voto, protagonisti della vita democratica. Propongo questa riflessione perché talvolta corriamo il rischio di dimenticare che, a differenza delle generazioni che ci hanno preceduto, viviamo nel più lungo periodo di pace del nostro Paese e dell'Europa. Non avviene lo stesso in tanti luoghi del mondo. Assistiamo persino a riaffacciarsi della corsa all'arma nucleare. Abbiamo di fronte oggi difficoltà che vanno tenute sempre ben presenti. Ma non dobbiamo smarrire la consapevolezza di quel che abbiamo conquistato. La pace, la libertà, la democrazia, i diritti. Non sono condizioni scontate, né acquisite una volta per tutte. Vanno difese con grande attenzione, non dimenticando mai i sacrifici che sono stati necessari per conseguirle. Non possiamo vivere nella trappola di un eterno presente, quasi in una sospensione del tempo, che ignora il passato e oscura l'avvenire, così deformando il rapporto con la realtà. La democrazia vive di impegno nel presente, ma si alimenta di memoria e di visione del futuro. Occorre preparare il domani, interpretare e comprendere le cose nuove. La velocità delle innovazioni è incalzante e ci conduce in una nuova era, che già cominciamo a vivere. Un'era che pone anche interrogativi, inediti, sul rapporto tra l'uomo, lo sviluppo e la natura. Basti pensare alle conseguenze dei mutamenti climatici, come la siccità, la limitata disponibilità di acqua, gli incendi devastanti. Si manifesta a questo riguardo una sensibilità crescente, che ha ricevuto impulso anche dal Magistero di Papa Francesco, al quale rivolgo gli auguri più fervidi. Cambiano gli stili di vita, i consumi, i linguaggi, mutono i mestieri e la organizzazione della produzione. Scompaiono alcune professioni, altre ne appaiono. In questo tempo la parola futuro può anche evocare incertezze e preoccupazione. Non è stato sempre così. Le scoperte scientifiche, la evoluzione della tecnica nella storia hanno accompagnato un'idea positiva di progresso. I cambiamenti tuttavia vanno governati per evitare che possano produrre ingiustizie e creare nuove marginalità. L'autentica missione della politica consiste proprio nella capacità di misurarsi con queste novità, guidando i processi di mutamento per rendere più giusta e sostenibile la nuova stagione che si apre. La cassetta degli attrezzi per riuscire in questo lavoro è la nostra Costituzione. Ci indica la responsabilità nei confronti della Repubblica e ci sollecita a riconoscerci comunità di vita. L'orizzonte del futuro costituisce quindi il vero oggetto dell'imminente confronto elettorale. Il dovere di proposte adeguate, proposte realistiche e concrete, è fortemente richiesto dalla dimensione dei problemi del nostro Paese. Non è mio compito formulare indicazioni. Mi limito a sottolineare ancora una volta che il lavoro resta la prima e la più grave questione sociale. Anzitutto per i giovani, ma non soltanto per loro. È necessario che ve ne sia in ogni famiglia. Al tempo stesso va garantita la tutela dei diritti e la sicurezza per tutti coloro che lavorano. Tanti nostri concittadini vivono queste festività in condizioni di disagio per le conseguenze dei terremoti che hanno colpito larga parte dell'Italia centrale. A loro desidero far sentire la vicinanza di tutti. Gli interventi per la ripresa e la ricostruzione proseguono e talvolta presentano difficoltà e lacune. L'impegno deve continuare in modo sempre più efficiente fino al raggiungimento degli obiettivi. Esprimo solidarietà ai familiari delle vittime di Rigopiano e della alluvione di Livorno, ai cittadini di Ischia che hanno patito gli effetti di un altro sisma e a tutti coloro che nel corso dell'anno hanno attraversato momenti di dolore. Un pensiero particolare va ai nostri concittadini, vittime dell'attentato di Barcellona. Il loro ricordo, unito a quello delle vittime degli attentati all'estero degli anni precedenti, ci rammenta il dovere di mantenere la massima vigilanza nella lotta al terrorismo. Riguardo a questo impegno vorrei ribadire la riconoscenza nei confronti delle nostre forze dell'ordine, dei nostri servizi di informazione, delle forze armate. Ripetendo le stesse parole di un anno fa, anche nell'anno trascorso hanno operato con serietà e competenza perché in Italia si possa vivere con sicurezza rispetto a quel pericolo che esiste ma che si cerca di prevenire. Si è parlato di recente di un'Italia quasi preda del risentimento. Conosco un paese diverso, in larga misura generoso e solidale. Ho incontrato tante persone orgogliose di compiere il proprio dovere e di aiutare chi ha bisogno. Donne e uomini che giorno dopo giorno affrontano con tenace e con coraggio le difficoltà della vita e cercano di superarle. I problemi che abbiamo davanti sono superabili. Possiamo affrontarli con successo, facendo ciascuno interamente la parte propria. Tutti, specialmente chi riveste un ruolo istituzionale e deve avvertire in modo particolare la responsabilità nei confronti della Repubblica. Vorrei rivolgere in chiusura un saluto a quanti questa sera non stanno festeggiando perché impegnati ad assolvere compiti e servizi essenziali per tutti noi sulle strade, negli ospedali, nelle città per garantire sicurezza, soccorso, informazione, sollievo dalla sofferenza. A loro, ringraziandoli, esprimo un augurio particolare. Auguri a tutti e buon anno.